Si chiama Grigento, provincia del gusto al centro del Mediterraneo ed è la manifestazione che aprirà i battenti domani per chiuderli sabato 19 settembre. Tradizione, cinema e denogastronomia saranno gli ingredienti dell'evento organizzato dalla provincia regionale di Grigento e che prevede la degustazione di prodotti tipici siciliani accompagnati da intrattenimento musicale con gruppi etnici e la mostra e mercato agroalimentare provincia del gusto fino a venerdì 18 al giardino del cinema Ciac. Fiora all'occhiello della manifestazione il Concordia Cinefest in cui saranno presentati al pubblico e alla critica internazionale film di chiara ispirazione mediterranea. Il luogo del festival Concordia Cinefest sarà la via panoramica dei templi mentre la visione dei film in concorso e tutte le altre attività collaterali si effettueranno presso il cinema multisala Ciac di Grigento. L'evento è stato fortemente voluto dalla provincia, è stato fortemente voluto dal presidente Dorsi proprio perché vogliamo far uscire Grigento dalla marginalità. Questo per noi è una sorta di numero zero. Noi speriamo nel futuro di istituzionalizzare l'evento e tra agosto e settembre speriamo che Agrigento possa essere veramente al centro del Mediterraneo. A chiudere la manifestazione sarà sabato 19 settembre un convegno che metterà insieme il connubio Enogastronomia e Cinema. L'ingresso all'intera manifestazione è gratuita ma chi volesse partecipare dovrà contattare il box office di Agrigento al numero telefonico 0922 20 500. nasce sul solco dell'ingresso.